Benvenuti in questo mio nuovo video, primo teaser della stagione 8, ve lo faccio vedere subito Eccolo qua, praticamente si può vedere che nello sfondo c'è un uncino Per cui mi sa che il tema della season 8 sono i pirati Hanno scritto anche la hit segna il punto, un tesoro appare, il bottino che perdi potrai ritrovare 4 giorni alla stagione 8 Forse introdurranno anche il veliero, questa immagine potrebbe anche indicare di una skin a tema pirata Comunque fammi sapere la tua nei commenti, questo è il primo teaser Spero che il video ti sia piaciuto, se è così lascia un bel mi piace, iscriviti al canale, commenta e condividi Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzuoli Ciao